Un 33enne di Caltanissetta è stato denunciato dalla polizia per essere stato trovato allo stadio fra gli spettatori, nonostante fosse sottoposto a DASPO. L'uomo era stato raggiunto dalla misura di prevenzione nel gennaio del 2020, con un provvedimento emesso dal questore del comune di Caltanissetta. Così il 33enne è stato denunciato dalla Digos alla locale procura della Repubblica, per violazione del divieto di accedere nei luoghi dove si svolgono competizioni sportive. L'uomo era stato sottoposto alla misura di prevenzione del DASPO per tre anni e emessa nel gennaio del 2020 dal questore del comune nisseno. Nel corso dell'incontro di calcio Nissa-Mazzarese, però, disputato domenica pomeriggio al campo sportivo Palmitelli di Caltanissetta, l'uomo, contravvenendo al divieto, è stato notato dagli agenti della polizia di Stato all'interno dello stadio fra gli spettatori. Così è scattata tempestivamente la denuncia a suo carico presso la Procura della Repubblica.